ciao ragazzuoli ed eccoci qua di nuovo con un nuovissimo video pokemon ma vi volevo far vedere quello che mi è appena arrivato ed eccolo qua il mio primissimo ordine da federic story il contenuto lo andiamo a vedere fra poco ok ecco i pacco ordinato da federic quindi adesso lo andrò ad aprire ho trovato il cortellino apriamo delicatamente diamo la via quindi apriamo cosa c'è dentro vediamo allora questo non ci serve questa cos'è allora gentile cliente grazie per aver scelto di acquistare presso il federic story siamo lieti che tu abbia trovato quello che cercavi e speriamo che il nostro servizio sia stato di tuo gradimento per ringraziati dell'acquisto e del suo supporto dato ci federic ha un regalo per te gratta l'area evidenziata e svela cosa si cela dietro qua mi ha dato una carta filmata da lui che questa la conservo qua dentro ecco qua quello che aspettavo collezione di padea waxley fuocco bellissimi sbrigattito quindi questi tre li andiamo a vedere adesso e questi giratina gallede e infine rotom ma questi li andiamo a vedere nel prossimo video ok ecco quello che è ordinato da federic ordinato ve lo faccio rivedere sbrigattito di collezione baddea collezione baddea fuocco e infine collezione baddea waxley e andiamo a vedere intanto cosa ci andiamo a trovare nella confezione cioè la collezione baddea pokemon contiene tre carte promozionale olografica di sbrigattito fuocco wasley una carta olografica gigante di coraidon ex o miraidon ex una spilla da collezione di waxley quattro bustine di espansione pokemon e una carta codice pokemon allora perché ho preso queste in realtà sono usciti all'incirca due mesi fa però io purtroppo non l'ho potuti prendere e lo acquistate adesso vi ricordo anche che vi chiedo una semplice iscrizione al canale e attivate la campanellina perché il 31 arriva la nuova collezione di scallato e violetto allora lo andiamo ad aprire la carta gigante di miraidon che anche questa veramente è fatta veramente bene poi dentro ci abbiamo trovato questa bellissima spilla di waxley bellissima poi ci abbiamo trovato queste carte quindi la carta promozionale di waxley bellissima la carta promozionale di fuocco più la spilla di fuocco questa spilla di spigattito spigattito promozionale più quattro bustine un astre lucente due tempesta agentata e colpo fusione ecco qua direi di partire con tempesta agentata apro il primo pacchetto faccia qui codice me lo tengo facciamo i trick 1 2 3 e 4 mettiamo sotto e si inizia ragazzuoli e speriamo bene energia a tale primordiale dedenne tetra pietra razz dado soon prof l'impio reversa oh madonna cos'è questo una vmax oh reggilecchi v max spettacolo spettacolo mi mancava questa misa bellissimo iniziamo bene secondo pacchetto tempesta agentata codice bianco facciamo il trick 1 2 3 4 e iniziamo energia onci cru raiccio ferro torn croagunc solosis zubat fongus ediem tetrapietra reverse milotic rara ma non lolo terzo pacchetto codice nero qua ancora c'è il famoso codice bianco e codice nero togliamolo 1 2 3 4 ragazzuoli qua c'è qualcosa per forza energia cg lipp alleatore della palestra chiria volpix stumfisch snorunt fletti clink ferro sed braviari brevesse ss trovo l'ho detto e c'era qualcosa v reggidrago v bellissima anche questa e già siamo a 2 con 3 pacchetti aperti ragazzuoli siamo a quarto pacchetto di tempesta argentata codice bianco codice bianco facciamo i trick 2 3 e una quattro miowistik non so come si chiama anorite crocoroc energia vulpix vulpix emolga buneari drowiz mistrivius reverse vilizion rara ma non ho niente quinta bustina di tempesta argentata nonché penultima bustina di tempesta argentata codice nero togliamo il codice facciamo il trick 1 2 3 e 1 4 dedenne attare primondiale sunflora energia meditite deupider ponita venonat rals foglia poncio mimetico reverse e sotto abbiamo una aridos holo ultima bustina tempesta argentata codice bianco non è un buon segno 1 2 3 4 sotto e vediamo energia don pan duosion why lord me argl liten petilil cincioi ferro seed cheldeo reversa e bravery allora con tempesta argentata in sei bustine abbiamo trovato queste due bellissime carte una v max e una v ma continuiamo apriamo colpo fusione e apriamo il primo si parte bene nero quando abbia trovato in nero in tempesta argentato di solito hanno pagato anche se questo è un po' rovinato vabbè ma che sarei freddo facciamo i trick 1 2 3 e 1 4 ok energia drac dracloak colwir swir shana osana comunque shinix shellmet dribbur bunelbi madikip acel gor revess e niente rara ma non oro secondo pacchetto di colpo fusione codice nero trick 1 2 energia shana prime app non so come si chiama simipur minun bad toy corsola eh quello che è volpix dun sparge reverse e un melmetal holo niente ragazzone questi colpo fusione nada nada ultimo colpo fusione e speriamo bene dai a meno un bel pull in colpo fusione no no nero è già qualcosa mettiamolo via 1 2 3 e 1 4 ci deve essere qualcosa energia cramobot ed goss e berserker non lo so volpix chansei zigzag monkey o monkey quanti spugnosi reverse e niente colpo fusione fa ah 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 bene bene ci sono rimasti tre asti lucenti quindi apriamo il primo e speriamo bene codice nero 1 2 3 e 1 4 ok energia macerie dello stadio clydol premolizione di malpi bidoff electabuzz awu lucha buizel gigble oh ivy questa è una fuoriserie credo bellissima ivy ragazzi e sotto c'è qualcosa vuastro 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 shaimin vuastro bello beh primo pacchetto asti lucenti ragazzuali secondo pacchetto di asti lucenti con il mitico charizard speriamo che mi porta fortuna codice nero togliamolo 1 2 3 4 e via energia premonizione di malpi elmo pentola esecutor grimer sneasel bidoff electabuzz kimecho esecutor esecutor reverse e sotto guard chomp holo ragazzo l'ultima bustina di asti lucenti l'ultima ed è bianco però c'è il voastro 2 3 4 c'è il voastro froate froate zel cintura scelta vibrava bidoff electabuzz aviluncia bazel gible oh oranguru e sotto abbiamo manapie ma ma va bene ma anche questa oranguru non è male bellissima mi piace mi piace allora questi sono quelli che ci ho trovato in asti lucente e questi in tempesta argentata allora della nuova collezione ho l'inizio di scallato e violetto che sarebbero i tre pokemon di padea waxleaf e cuoco sbrigattito a proposito dei nuovi pokemon scallato e violetto vi ricordo nuovamente il 31 uscirà un video di lo spacchettamento di scallato e violetto quindi mi raccomando attivate la campanellina per non perdervi il video che uscirà ditemi cosa ne pensate qui sotto i commenti noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao